Salve gente, qui parla Otaku-Man! Continuiamo con Like a Dragon Infinite Wealth! Sarà Yamai, per caso? No, questo è Adachi! E perché ci chiama? Uuuuh! E alla Hawaii? Ah, è vero, mi sembrava che ero qualcosa di così... Eh? Dove sei adesso, Akasuka? Grande! Siamo arrivati in un'altra parte! Altri alleati, finalmente! Il grosso della truppa, letteralmente! Namba! C'è il gruppo al completo, mancherebbe soltanto Saeko? E Eri? E Jongi Han? Così, hanno preso l'iniziativa e sono venuti a... Da aiutarci alle Hawaii, sono dei... Sono dei grandi, anche loro! Un po' entrambi dei pirla, però... Sempre... Sempre buona manovalanza! E' un po' entrambi dei pirla... ... E che rinforzi? E' vero, bisogna rappresentarli poi. Sono il meglio del meglio del meglio! Sono queste le cose che mi fanno gasare nei videogiochi. Cioè, quando tutto sembra perduto, arriva qualcuno e ti dà una mano. Così, perché ti amica. Hanno cambiato... Oh! Beach Paradise, con l'attai erawaiiano! Un mese sicuramente, visto che l'ho passato a Don Tocco Island. E' il tempo delle presentazioni, direi. Lunga storia, Solid Snake. E' un po' di tempo che si è finita, non? E' un po' di tempo che hai ragione, non? E' un po' di tempo che sembrava poco più lungo. E' un po' di tempo che si è stato fatto. E' un po' di tempo, che si è capace, che mi ha fatto ritirare un momento. Di la verità Daci tutti diverti Commosso Ichiban naturalmente Dai e adesso visto che siamo tutti insieme Karaoke presto Ah no aspetta prima Kiryu Prima Kiryu poi uccidiamoci di Karaoke Ah ci sarà tempo Nell'estate infinita insomma Una volta finita la storia Tranquillo Neamba Let's say go Inquadratura Namba e Adachi sono Guardate Sono troppo bravo Porca vacca Concedetemi un momento per gasarmi Solo questo momento concedetemelo Ok se ora non mi investono Forse è meglio Sono tutto settato Non ho potuto cambiare alcune classi Ma ho Migliorato equipaggiamento e statistiche Quindi andiamo a salvare Kiryu Night Square Cosa dovrebbe essere l'equivalente di Tenkaichi Street Questa è un po' Nessun ripensamento, vero? Ah, ok Ti capisco, Tomizawa Ah, c'è della serie Fate quel che cavolo volete, sono troppo vecchia Non ho più paura di niente Il che comunque è lo debole Forse non era Tenkaichi Street il quartiere a luci rosse Vabbè che tutto quanto Kamurocho è il quartiere a luci rosse tecnicamente Ma c'era una via ben specifica Mi ricordo Tenkaichi Street Ma potrei sbagliare Volcano Tattoo Studio Deve essere questa la Obasan Ciao Allora forse dovevi scegliere un'altra location per lo studio di tatuaggi Tempo... cosa sono? Un minuto e mezzo? Un minuto e mezzo e subito... Sì, però prima li pestiamo, giusto? Oh, la posa che comincia così e poi cala lentamente le braccia, fa molto tamarro di periferia Il sas di Namba Sì, sì, tutte le movenze... sei proprio un duro facendo così tutte le mosse, guarda Sono pietrificato dal terrore Attacco plurimo dei piccioni grassi! Ora è cogiuta quanti? Non l'avevo neanche mai provata questa tecnica prima L'Akitu! Cazzo! Fai un'inquadratura simile, non ci vede una sverza! Gli ha tirato una bottiglia Aspettavo un attacco un po' più violento di così Oh, che faticaccia! Hanno fatto tutti i piccioni praticamente! Mi ricorda uno degli amici del protagonista di Lost Judgment Non mi ricordo il nome al momento Dai, dai, dai amico mio Bravo, bravo Ichiban! Avrei fatto lo stesso Quello è un teatro Oh, ok Un cabaretto Ma aspetta un secondo È dietro l'angolo? Come cazzo hanno fatto a vedere da là in fondo il teatro? Ah, guarda È là Subito dietro l'angolo Come fai a vedere? Non c'è la... Devo smetterla di prestare attenzione a queste cose Però non posso non notarle Più forte di me nel mio DNA Oh, cazzo Ok, meno male che ho livellato da per me notte tempo, allora Equipaggiamento consigliato 3+, e livello consigliato 26 Penso... Aspetta, non ancora voglio assicurarmi di... 28, 28, 27, 27 Perfetto, allora... Meno male che mi sono preparato Che culo Aggiungerei Sì, sì Andiamo a salvare Kiryu È un must Ah, è vero Loro non l'hanno ancora visto C'è una faccia da cavallo Ah, e soffre di freddo anche quando è un caldo bestia È tutto negli occhi Gli occhi sono lo specchio dell'anima Ma sono tutti vestiti d'argento Si capisce che Tomizawa non sarebbe stato mai accettato e o integrato nel gruppo Perché era l'unico che vestiva di viola, praticamente Volete fare? Ichiban è un eroe Polvere viola? Ho la polvere viola che fa per te Va bene Calamaro cannone E fa pure bang Neanche splurt 3, 2, 1 Gruppo di nemici Noi sì che li batteremo Sicuramente Branco di stronzi No, no Quelli sono nell'altro quartiere Il passepartout Che? Ma abbiamo sfondato porte a calci fino ad ora Solo adesso ci serve il passepartout Vabbè, un po' di filler Immagino che ci possa stare per far livellare un po' di più il team Sì, calzature da dama Addosso da daci Guarda, io non sono nessuno per giudicare Lungi da me Ma non credo che Siano molto comode Le scarpe coi tachi Per combattere Sono finito in un gioco completamente diverso È una di quelle situazioni completamente a random Ah, cioè, neanche se la sono presa Cioè, se la sono presa ma per i motivi sbagliati Non potevi bussare Completamente a random Murder or boogie Che razza di film è? Un serial killer che costringe la gente a danzare per la loro vita, tipo Sarebbe una promessa interessante, a dire la verità Non mi ha ancora chiesto, tipo, sei pronto? Sì o no? Probabilmente Solo adesso ci sarà la cassa Eh, sì, la cassaforte Il telefono per il salvataggio E la stazione di ripristino dell'energia Oh, guarda un po' che strano Oh, c'è anche la cassaforte, a dire la verità Potevamo usare il passepartout, eh? All'ultimo piano Ragazze interessanti per un cabaret Ah, te lo ricordi adesso, eh? Vuoi che ti pestiamo per la terza volta? Ma gli parla come se fosse tipo la prima volta che... Gli abbia scavato il culo, Yamai Le donne cercano di dissuaderlo? Ok È stata una scena carina, dai È originale Dai che adesso ti scaldo io al suon di pugni Farà sul serio Faccia di cavallo adesso Uh, la vostra stessa la seguite Molto sicuro di sì è quel bastardo, eh? Non riesco a arrivare via mai Siamo degli estranei qui Vediamo di farci sentire come fossimo a casa, dai Cominciamo con lo spezzare una guardia Non voglio nessuno in posizione di difesa qui Che cazzo? Ehi Ok, mi state già meno simpatiche adesso Beh, è una fortuna che non l'abbia ancora attaccato Sì, comunque interferenza, non vale mica Calcio caolo, non ho tecniche più potenti di questa al momento, quindi Appena un massaggino alla schiena Signora, fatti il cazzo tuo, vuoi? Spirito alcolico Ora fa sul serio Au Au Non posso pararlo questo, letteralmente Hai inflitto meno di quanto pensassi Ti pescia a prendi in faccia Oddio, cos'è il passo furtivo? Vorresti tanto essere magi, ma vero? E invece no E all'improvviso un pesce gigante Visto che è un oggetto ricorrente PESCIONE Sono pure sparite le donne Nel frattempo Dove Dare Kiryu Subito Che senso non lo sa Che senso non lo sa Garrottiamolo Facciamo una foto Oh, ha cantato la tipa Fatti rigazzi tua Mi sono ripresi in fretta Mi sono ripresi in fretta sti qua Buongiorno 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 Oh, beh Conosci i suoi gusti, adachi Sono fiero di lui What the fuck? Lo stanno tenendo sotto controllo a livello medico? Non ha mai ripreso croce, è proprio andato. In effetti non era una cosa che mi aspettavo da Yamai. C'è quindi questo tuo lato da dove salta fuori? Oh, quindi la voleva perché la volevano gli altri? No, non è vero. Come te lo spiego? E' il caso di dirgli proprio tutto a Yamai? Io non credo sia la migliore delle idee. Cioè, se sa più dettagli potrebbe essere ancora più spronato a rapire Akane. Elani, si intende. Talmente noiosa che deve essere vera. E addirittura? Non ci vedremo mai più Ho qualche dubbio in merito Strano, strano Questo suo lato Sì, in maniera distorta Molto distorta Ma infatti non di molto Ma è pur sempre qualcosa